La nostra è un'azienda di maestri artigiani, nata circa dieci anni fa, abbiamo lavorato molto nel settore della moda. Il nostro marchio, già lo dice il nome, è un made in Italy. Tutti i prodotti seguono il made in Italy, il fatto a mano e tutti i prodotti nascono senza bozzetti ma seguono l'istinto creativo della nostra designer. In questi anni abbiamo deciso di spostarci dal settore moda ed entrare nel mondo dell'ottica. L'azienda in questi anni ha investito molto su quello che è la ricerca di materiali perché con ricerca di materiali di una certa qualità si possono raggiungere dei risultati nelle finiture che danno poi i dettagli che alla fine sono quelli che danno maggior successo nel lungo andare. La nuova collezione che presentiamo oggi, Burlesque Scalmania, è stata dettata dall'esigenza sempre più forte di stravaganza. Questi nostri prodotti fanno sì che ognuno di noi possa esprimere il meglio.